Qui è difficile fare una previsione, tornerà Brock Lesnar, lo rivedremo, proprio oggi è uscita una news che dice la WWE ha ripreso a nominarlo, nei suoi programmi, nelle sue trasmissioni, nelle sue telecronache, ma non c'è un'avvisaglia di un suo ritorno a breve. Questo è quello che dice il web. Però io ho come la sensazione che prima o poi da Brock si ripresentino a bussare, soprattutto magari per una di queste grandi Kermess, WrestleMania, SummerSlam, o un evento in Arabia, perché Brock Lesnar smuove interesse e ti rimane sempre dentro la voglia, la nostalgia di vederlo. Perché, appunto, è un part-timer e combatte poco. Quindi, secondo me, sì, non so dirti se lo rivedremo, questo nessuno può farlo, però secondo me ci proveranno a riportarlo a casa. A meno che non escano delle notizie molto negative connesse agli scandali in cui è immerso Vince McMahon che lo coinvolgano. Però su Brock Lesnar voglio essere ottimista e positivo. E aggiungo, Brock Lesnar e in parte Roman Reigns, tanto criticati in quanto part-timer, in realtà sono al momento il prototipo perfetto di quello che serve alla WWE. Ovvero un atleta di grido, d'alto rango, che ritorna e crea hype. Può essere uno di questi, quindi un vero part-timer, o uno che rientra da un infortunio. CM Punk, Charlotte Flair, Seth Rollins. O da un'assenza prolungata, Roman Reigns. Questi ritorni ciclici, con questo hype, è tornato, è tornato, è tornato, è tornato, sono uno degli ingredienti della narrativa di Triple H. Prendete la fine dello scorso anno. È tornato Randy Orton. C'è uno show, secondo me, abbastanza mediocre, che sono i War Games. Torna CM Punk, pay-per-view dell'anno. Premium, la vivente dell'anno. Perché c'è CM Punk. Ed è avanti così. Poi c'è l'hype per il ritorno di The Rock. Ed è quello che, sul quale stanno giocando molto. A me dà l'idea che a lui piaccia puntare su questo. L'assenza visiva, poi la grande sorpresa, ecco il grande match, è tornato l'atleta imperdibile. Quindi, assenze o infortuni di un certo, a certe star, diventano quasi un piccolo capitale per la David A. Louis. Perché pensate cosa potrebbero fare quando torna Seth Rollins, o quando torna Charlotte, o quando rientra CM Punk a lottare. C'è l'hype, l'attesa, la salivazione che viene spinta all'estremo, grazie a un comparto di marketing e ad una confezione televisiva che al momento non hanno pari al mondo. Quindi, in seno all'interno di tutta questa discussione, mi viene da pensare che da Brock Lesnar torneranno. Poi magari lui non ci avrà voglia. Magari vorrà stare lassù, nel suo ranch, in Canada. Diviso tra la caccia e la pesca. O magari alzerà le richieste, se no che non verranno in qualche modo accontentate. Però ecco, da lui secondo me ci tornano. Poi vedremo se e come va.